Ma scusate, c'è un ospedale che penso sia in grado di dimostrare che una persona ha avuto un arresto cardiaco? Ma i documenti che sono usciti dall'ospedale non parlano di Anna, Moana, Rosa, Pozzi di anni 33 e mezzo, ma parlano di una fantomatica Anna Pozzi di anni 32 e lo stesso fa la ghigliotteria, dove dice che non è poi un documento ma un registro, in cui anche lì ci sono delle discrasie, delle discrepanze. La documentazione, caro Riccardo, e tu lo sai meglio di me, è inutile che ci nascondiamo, la documentazione è lacunosa, frammentaria e addirittura anche bugiata. E sono documenti che, i documenti veri, perché i documenti veri parlano sempre di Anna, Moana, Rosa, Pozzi, nata a Genova il 27 aprile del 1961 e tra qualche giorno ne ricorderemo il suo anniversario. Perché lo fanno? Invece altri documenti sono soltanto Anna Pozzi. Oppure, anche ieri un personaggio molto importante nel campo della pornografia ha detto che Moana non faceva mai le analisi di HIV e abbiamo due documenti che dicono il contrario. Allora che c'è? O queste persone dicono tutte le bugie, oppure... Restiamo sul discorso del mistero sulla morte o morte avvenuta. Io vado avanti soltanto con i documenti, caro Riccardo, e se ti dico che io avevo un impegno reciproco con Moana, quel impegno lo sto portando avanti, al contrario di tanta altra gente. Perché, Riccardo... Non ti sento più. No, sono Antonello De Piero. Riccardo, mi senti? Pronto? Riccardo? Forse c'è un problema con la linea... Se proviamo a riattivare il collegamento, stiamo intanto con Riccardo Schicchi, però nel frattempo ne approfitterei per mandare in onda la pubblicità. Così, ritorniamo subito, cerchiamo di ripristinare il collegamento con Riccardo Schicchi. Radio Roma, al centro della musica. Ancora in studio, stiamo parlando appunto con Riccardo Schicchi, vediamo un po' se riusciamo... siamo riusciti forse a ripristinare il collegamento appunto con Riccardo Schicchi. Bene, bene. A questo punto non c'è, perché stiamo parlando... Pronto? Eccoci, eccoci Riccardo. Abbiamo ripristinato il collegamento. Pronto? Vi sei? Pronto? Proviamo nuovamente se riusciamo. E comunque ritorniamo ancora in studio. Tu intanto, Loredana. Loredana Pontevi, perché tu sei un po' tacitura, perché sarà che Brunetto parla molto effettivamente. No, giustamente Brunetto ha tanto da dire, io mi informo. Tu che idea ti sei fatto di tutto ciò? L'idea sì che è molto complessa tutta la situazione, che ci sono tante bugie in ballo proprio da tutte le parti. Eppure queste ultime dichiarazioni mi suonano veramente strane. Quali? Quelle ultime, per esempio, su la morte, sulla presunta eutanasia, oppure mi sembrano veramente strane, mi sembrano abbastanza concordate. Comunque, anche se fosse vero, sarebbe una cosa bruttissima. Ma mi sembra, sai, tu vai avanti, poi ti dico che tu hai fatto male, poi ci rimettiamo d'accordo. Mi sembra tanto strano tutto quanto. Così che sta ritornando Riccardo. Forse, forse sì. Eccoci una mente, Riccardo? Sì, c'è 10 in campagna. Ce l'abbiamo fatta. Senti, no, ti volevo dire, tra l'altro Brunetto Fantauzzi ha portato qui dei documenti, effettivamente, che non avevo mai visto. La prima volta, insomma, ci sono, per esempio, dei documenti di una denuncia presentata da una persona, che da quello che è stato riscontrato, dopo due mesi dopo la presunta morte, o morte, insomma, avvenuta, c'è stata una denuncia di smarrimento, rappresentata presso i carabinieri di un paese in provincia di Alessandria. Dall'identificazione, appunto, sembra proprio Moana. Infatti, se adesso dovrei averla qui davanti. Vedi un minuto che non ho sentito perché mi sto spostando. No, ci sono dei documenti, però una cosa mi ha colpito molto, insomma, tra i documenti che ha prodotto, appunto, Brunetto Fantauzzi, dalla disamine dei documenti che ho fatto qui in radio, effettivamente questo è un documento che non avevo mai visto, c'è una denuncia che effettivamente c'è un mistero che alleggia intorno alla morte di Moana, tra l'altro un grande personaggio che è stato addirittura, penso che sarà un personaggio che non morirà mai, insomma, scritto e impresso a carattere indelebile, appunto, sulla storia, appunto, del XX secolo. Comunque, c'è stata questa denuncia, appunto, tra i vari misteri intorno alla morte, una denuncia presentata da Moana Pozzi, proprio, al mandio dell'identificazione, sembra fosse lei, presso una caserma dei carabini, una denuncia di smarrimento, una caserma dei carabini due mesi dopo la sua morte. Stiamo parlando del mese di ottobre, un mese e mezzo dopo all'incirca. Smarrimento di che cosa? Smarrimento di documenti di una macchina, mi sembra un libretto di una macchina. E poi si parla invece di un mutuo che lei avrebbe stipulato nove mesi dopo la morte. Queste sono le cose che un po' mi hanno colpito tra i documenti che ha presentato, appunto, Brunetto Fantauzzi. Tra l'altro qui c'è una piattaforma documentale molto stabile, effettivamente, su queste cose. Questa è una richiesta di attestato di sepoltura. Questo è il colume del comune di Lerma. C'è un sindaco che smentisce. Addirittura Brunetto ha ipotizzato, almeno da quello che è così, un eventuale possibile... Ecco, no, quello che va, eccolo qui. Ho trovato la denuncia di sparrimento. Ci sei, Riccardo? Pronto? Che data porta? Questo documento porta il 21-10-94. Come? Il luogo del fatto Alessandria, 21-10-94, 1994. Mornese, no? È la stazione Carabinieri di Mornese, provincia di Alessandria. Sì, ma scusate, ma se una persona fosse fuggita, cosa è impossibile, che stava malissimo, non vada a Carabinieri a fare una denuncia di sparrimento. Chi lucra su sta cosa? Io sto vedendo, però questo documento, questa è una cosa che mi sta lasciando, mi ha colpito molto, devo dire questa cosa, perché io ho fatto una puntata, poi anche alla luce di quello che è successo in questi giorni. tra l'altro io volontariamente non ho contattato Antonio Dicesco perché non volevo assolutamente entrare nel merito di questa cosa più di tanto, però infatti era molto, sto sapendo da molto tempo il fatto, le cose che sostiene appunto Brunetto con delle prove che lui ha portato. Sui documenti, io non voglio, io non faccio ghiagliere. C'erano dei documenti che sicuramente non dicono che è morta o non è morta o che sia viva, ci sono sicuramente delle discordanze, delle contraddizioni in alcuni documenti, come questa qui per esempio mi colpisce molto questa denuncia di smarrimento che è datata appunto 21.10.94, dice smarrimento di documenti, persone fisiche, ruolo, vittima denunciante, Pozzi Anna Moana Rosa, date il luogo di nascita 27.04.1961 Genova, oggetto coinvolto il tipo di fatto, smarrito rubato, tipo carta di circolazione, numero 175813, luogo di rilascio, soggetti collegati, possessore, Pozzi Anna Moana Rosa. Questo è un documento ufficiale appunto dei carabinieri di... Forse hanno sbagliato l'anno. Potrebbe aver sbagliato l'anno. Intanto qui c'è il 1994 novembre, poi dopo vediamo se è sbagliato. No, è ottobre, 21 ottobre, 21 ottobre, 21 ottobre. Sì. Allora che succede? Quando si tratta di prove allora è sbagliato l'anno, quando si tratta di altre documentazioni allora è tutto buono. Comunque, no, Prunetto, vorrei sentire un attimo Riccardo con questa cosa. Sì, io vi sto perdendo un'altra volta, ma non è il mio telefono, è il vostro collegamento. Eh, pronto, tu sei? Sì. Io penso, guarda, dato che il signor Di Cerco va in giro con la macchina di Moana e la carta di circolazione sta dentro il cruscotto, domani dato che saremo insieme a Buona Domenica andrò a rubare la carta di circolazione per dimostrare che se è stata rinnovata o se invece è la stessa da quando è stata acquistata quella macchina. Eh, questo già potrebbe essere una buona cosa, perché effettivamente no, mi colpisce molto questa data, però il 94, anche io... Per me è facile indagare su questo, sulla clinica di Leone è più difficile. Ah, certo, sicuramente. Ma sulla carta di circolazione assolutamente riuscirò entro domani a svelare il mistero. E poi c'è una stipula di un mutuo fondiario invece, queste sono le due prove documentali che mi hanno, insomma, hanno colpito, hanno tirato molto di più la mia attenzione. Si parla di 2 miliardi di lire, registro particolare numero del 26 giugno del 1995. Io vi posso dare un altro telefono se mi richiamate, così possiamo sentirci meglio. Certo, certo. Però, aspetta, facciamo cadere la linea e lo dai chiaramente in privato. Rientriamo nuovamente in studio per conto nostro, lo dai in regia. Bene, nel frattempo che Riccardo fornisce questo numero dove poterlo contattare, io stavo vedendo appunto questo, l'agenzia del territorio del servizio pubblicità immobiliare, si tratta di un mutuo, prendete, giusto?